Pugliesi scatenate tranne una ma solo in apparenza. Il Cerignola infatti è l'unica delle nostre rappresentanti iscritte al prossimo campionato di Serie D a non aver ancora ufficializzato operazioni in entrata nemmeno con ferme di giocatori. Già protagonisti con la maglia giallo-bru nella passata stagione. Pochi rumori ma i fatti non mancano. Si lavora sotto traccia infatti per allestire un organico in grado di puntare al massimo obiettivo la promozione. Mentre i professionisti arriveranno di conseguenza nomi importanti in tutti i reparti per l'attacco. Tra l'altro i beninformati raccontano di una trattativa molto avviata con Giuseppe Sicleri protagonista con la maglia del potenza della vittoria dell'ultimo campionato nel Girone H. Diversi profili giallo per a Cerignola che risulterebbero graditi al neotecnico Dino Bitetto praticamente certe. In tal senso le conferme Dillo Iodice, Allegrini, Sant'Erusso, Polidori e Marinaro si punta a trattenere anche gli juniores Luca Russo, Maraolo, Dicillo e Abagnale. Raffica di conferme anche a Fasano dopo quelle di Montaldi, Anglani e Corvino. Ecco le nuove firme di Serri, Zizzi e Bernardini. Si muove e tanto anche l'Altamura che prepara un altro colpo per reparto dopo quelli di Guadalupe per il centrocampo e Palazzo in attacco. Per la porta si punta molto sul giovane 2000 Ascarano per assicurarsi le sue prestazioni. I murgiani hanno dovuto battere la concorrenza di diverse società. Giovedì sera è in programma la presentazione del neotecnico Claudio De Luca e del suo staff. Altra conferma a Bitonto non c'erano dubbi su quella dell'attaccante Cosimo Patierno ma ora c'è anche l'ufficialità. Quella che comincia oggi intanto sarà la settimana della nuova firma di Franco 5 al Barletta. La nuova proprietà della Vigori invece sembra orientata ad affidare la guida tecnica a Benni Costantino, ex Omnia Bitonto, già in passato alla guida del Trani. Altro rinforzo a centrocampo intanto per la Forti Saltamura dopo Bartolo Lorusso. Ecco un altro ex Molfetta Vito Dentamaro. Il Vieste infine conferma pure Carruso, Sollitto, Ranieri e Principe.